Grazie a tutti È stata una bella partita da parte del Napoli, ripeto questo è il quadro della partita, dei 90 minuti, non so se la Juventus sia o meno più forte degli azzurri, certamente ha forse qualche arma in più in panchina perché non è pensabile che con i giocatori di ritorno da viaggi... Incredibile, agile e parcheggio ovunque, è uno scooter? Certo che no, è nuova Panda, esageratamente Panda! Nuova Fiat Panda da oggi è anche a metano, meno di 12 euro per un pieno, tua con anticipo zero e tasso zero, ti aspettiamo sabato e domenica! Una compagna, devo dire una cosa prima di darti la linea Gianluca, a proposito di Casedes e del gol, devo ringraziare quelli che sono in panchina alla Juventus perché gli hanno dato... Grazie a tutti!